Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Gatto nero Cominciamo bene In questo nuovo video come vedete siamo nella nuova mappa Che si chiama Non me lo ricordo si chiama Si chiama Non me lo ricordo map Le ocche Le ocche, le papere No Allora siamo in una nuova mappa Ragazzi come potete vedere Cominciamo a vedere con gli attrezzi Questi qua La madonna I cavalli Beh devo dire che questa mappa è finalmente la mappa Oddio cos'è Cos'è Questi robi Sono dei conigli Che fighe I cavalli Quanti animali ci sono in questa fattoria Poi c'è qua una gallina Che sta covando E poi c'è una papera O un'oca Che cacchio è non lo so Qua c'è un gatto nero Guarda che bello Apriamo la mappa intanto ragazzi Oh ragazzi Ora si che si ragiona Non ci sono ancora i numeri delle cose Però almeno ci sono i simboli Ci sono i simboli ragazzi Simboli Qua c'è un girasol Avevo visto un gatto da qualche parte È sparito Vediamo se si può entrare in casa Non penso Ma non sono più alto della porta Vediamo qua No Ok ragazzi Questo qua Guardate che figo Cos'è Cosa sarebbe questo Cos'è uno spanchi concime Cos'è Buon attrezzo nuovo quello lì Non l'ho mai visto Andare un po' avanti Vedere che cosa c'è Qua c'è Della farina Da sniffare Una cosa è Non lo so Comunque sempre Gallo Ok Perfetto Vediamo Vediamo Qua si può entrare Si può entrare Uno sgabuzzino Ok Oh Quello lì sono i silos Guardate che belli Rapa Mais Fumento E colza No Colza No Si colza Mi pare No no Colza è quella là Oddio Si colza Orzo Ok Penso Non ho fatto confusione Qua Non c'è sta nada Qua c'è tutto il fumo Che viene su Questo è ancora L'attrezzo Beh Devo dire che Ci sono molti Molti attrezzi Quindi Si parte abbastanza bene Questa mappa Ovviamente non si apre Perché se si apriva Fatemi prendere un trattore va Devo dire che ci sono Molti Molti animali Molti Molti attrezzi Quindi E poi Soprattutto ci sono I simboli Dove indicano Le pecore Le mucche Cosa che nelle ultime mappe Non c'era Non si capiva Un bel nada L'unica cosa che manca Oh Non si apre E con cazzo Faccio riuscire Aspetta Prendo Prendo la rincorsa Vai Vai No Mi hanno intrappolato Mi hanno intrappolato Aspetta Olle Oddio Come faccio a riuscire Oddio Come faccio Mi ha aiuto Eh vedi Il gatto nero che porta sfiga Eh lo sapevo io Il gatto nero che porta sfiga E sono chiuso dentro No Non ditemi No eh Vi prego Ma sono un carcerato Gallo Posso Sapere Come usci Sprengessi Sta rampozza Qua Come faccio Ad uscire Ragazzi Mi hanno intrappolato Dentro Ma no Ma avevo Prendito Che era una grande mappa E ora Ma io non ci credo Ma da qualche parte Sì Da qua Queste sono quelli Dei funghi giganti Come faccio ad uscire Ragazzi Oddio Aspettate un secondo Guarda che qua Stiamo giocando Con il ghiaccio Allora qua sono i silos Qua c'è un galo Che continua a brucare Sembra una pecora Come si fa ad uscire Ragazzi Ma Ma Quella è un attimo Oddio Signore 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 C'è un dilemma Ragazzi C'è un dilemma Come faccio Ad uscire Dai Non è giusto Volevo fare vedere Una cosa Ho visto che c'è pure Un nightclub In questa Questa mappa Volevo farvela vedere C'è pure una prostituta Che chiede L'autostop Che fa l'autostop La cosa è grandissima Non si fa ad uscire Non si fa ad uscire Merda Come cazzo Si fa ad uscire Cioè Vuole vedere che L'unico Che non riesce ad uscire Sarò io Vuole vedere che Vole penna scaricate Vi si aprono le porte Le c'è io Rimango Bloccato qua dentro E quindi Aumentando la figura Di merda Che Ma io ci provo Ragazzi ci provo Ci provo ragazzi Ragazzi ci provo Ci provo Vai Vai più veloce Vai 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 Ozzo Sono scastrato Oddio Vai Vai amico Vai amico Dei fargiani Vai amico Sono caduto Nooo Oh Oh sono salito Aspettate Vai Fuori Sono fuori Ragazzi Si Non ci credo Non ci credo Oh mamma Non ci credo Ragazzi Sono fuori Ma per uscire Devo fare tutto Sto macello Non so Adesso Vediamo se si apre Per entrare No neanche Ma sono bloccati E muori Entrare Come faccio Oh ragazzi Non lo so Comunque siamo fuori Siamo fuori Mamma mia Non ci credo Questi qua Sono delle cipolle giganti Ah sono delle capanne O sono dei nidi Sentite il verso di uccelli Comunque siamo fuori L'importante ragazzi Che siamo fuori Allora qua È dove mangiano le pecore Dove stanno le pecore Quindi Beh un ottimo posto Direi ragazzi Che ne dite Un buon posto Qua c'è con un cane Che li tiene d'occhio Quindi Direi ottimo Qua meccanica Ah il meccanico Se dovrebbe andare male Il trattore Qua c'è il pescatore Ah da qua si prende anche L'acqua Quindi Direi Oh Che cazzo è il suo rumore What cazzo Quindi mai ci sono Di sta fattoria Allora andiamo di là Uh la mucolfiera c'è Non l'avevo ancora vista Per vedere le mucche Ragazzi Poi il Nel club Non so dove sia Sinceramente Ho visto la foto Ah qua dove sono le mucche Ok Nulla di che Sempre uguale Ottimo In el club invece L'avevo visto a qualche parte Sulla mappa Però là non mi ricordo Comunque ragazzi siamo fuori Però come si fa a rientrare ora Cioè non so se è una cosa mia O è un bug della mappa Boh Ditemi voi Se Se vi fai rientrare Se vi fa uscire bene Sennò vuol dire Che è solo un problema mio Gatti dappertutto Veniamo Qua ci sono le signore La signora Ok Veniamo un po' I cartelli stradali Vediamo Per vedere Nel club Dov'è Ah qua dove ci sono Il silo Scusate Il bioga Cos'è un farigname Tutto posto Star interrotta Va bene Biogas No ma che figata Però che reale Sarà interrotta Per Per il farigname Mamma mia Stupendo Stupenderimo ragazzi Vediamo Voglio farla vedere Allora qua Ok biogas Perfetto Voglio vedere Se lo troviamo Vediamo No di là Se non c'è Vuol dire che Sarà disperso Giriamo Ok Eccolo Nightclub bar 24 ore Aperto Paradise 1500 metri Andiamo ragazzi A nightclub Quindi ci divertiamo Un po' Dai Su Le macchine Che fighe Autopromo Sarebbe questo? No 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 Dove sarà? Vediamo 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 ragazzi Qua sono i cervi Che tra Oddio Cimitero Merda Cimitero Via 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 Merda Merda Pure cimitero L'hanno messo Dove sarà? Eccolo qua Nightclub 24 ore Ah questo qua Questo qua ragazzi Eh infatti guardate Quante Quante macchine Ci passano Eh furbetti Guardate qua Abbordiamo questa Vediamo Vediamo Oh Oh Scusi signora Scusi Ma non volevo Vediamo Ho delle galline Vuole salire Ho dei pulcini appena nati No Vabbè Ho un bel faggia Ho un bel faggiano Da farle vedere No Neanche lei Oh guarda il mio Questo qua è il mio papà Ci sta provando Eh Ci sta provando E non si può stare sulla macchina No Oddio Mamma mia Entrare No Foto Ose Foto Ose No Non ci fanno entrare Porca Loggia Cioè bravo Guardate qua Cioè Che figata Che figata Che figata Una roulotte Questa qua è entrata secondaria Ok ragazzi Quindi direi di chiudere qua il video Nel night club Posto dove staremo 24 ore su 24 Ci sosteniamo qua Ad ammirare qua Ok Quindi ragazzi Spero vi sia piaciuto il video Spero vi sia piaciuto soprattutto il night club Ragazzi E quindi Non so Mettete un bel mi piace Se vi è piaciuto un video Un bel commento Ci sentiamo in un prossimo video In un prossimo episodio Da Simulator È tutto Ciao a tutti